Sì, io non lo condivido perché le origini ce le teniamo ben care e sono dentro di noi. Io sono stato uno dei primi non solo ad aderire al movimento, ma ad aderire alla formazione dei famosi meetup cinque anni prima della nascita del movimento e quindi conosco ogni passo di questa storia e in tanti periodi di questa storia, in tanti momenti noi siamo cambiati, siamo cresciuti, abbiamo attuato delle modifiche perché un movimento come il nostro che non è in cammino non si può definire movimento e noi siamo in un eterno in qualche modo cammino e quindi abbiamo affrontato varie fasi, abbiamo affrontato anche quest'ultima fase che penso che sia stata risolta con grande successo da parte di tutti e quindi io credo che oggi il movimento sia patrimonio davvero del Paese.